Siamo in due o tre a sapere che passerà anche nella nostra zona, la Tav. Forse io lo so meglio degli altri perché a me passerà il rasente al muro di decinzione. La cosa non mi fa assolutamente piacere, non soltanto per la mia casa o per il mio vicino di casa che si vedrà i campi divisi in diagonale completamente, quindi ha mai i suoi bei problemi. Ma perché? C'è tutto quello di cui avete parlato prima voi, quindi problemi del territorio e l'acqua. Perché io ho un pozzo, sono stati fatti dei carotaggi, sono stati fatti i controlli sui pozzi e l'acqua ci verrà a mancare. Lui con cosa innaffierà i suoi campi? Io non sono più contadina però mi rendo conto che il problema c'è. E il paese, nessuno ne parla, nessuno lo sa e ancora venti giorni fa ci è stato detto questa cosa non verrà mai fatta. Ma tutto questo è quello che volevo dire. Buonasera.